È l'incentivo dell'illegalità che viene in qualche modo premiata, è proprio il premio, hai fatto il furbo fino adesso, adesso ci mettiamo d'accordo, quindi continuiamo questa modalità che qualcuno ha chiamato in altri tempi mafiosa, ma insomma non è qualcosa di diverso dal mettersi d'accordo con la criminalità. Un paese che favorisce l'illegalità è un insulto a questa grande intelligenza che comunque c'è e non riesce a vivere, questo ha la difficoltà proprio di esistere, c'è l'intelligenza, ci sono dei pensieri anche importanti ma non hanno proprio modo di esistere, e questo mi sembra che quello che poi riesce ad esistere è appunto criminalità, inciucio e cose che non hanno niente a che fare con l'idea di Stato più nobile, esattamente questo, non c'è niente di nobile in questo momento.